Un arresto eseguito dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta nell'ambito delle normali attività di controllo del territorio. Fermato Alberto Lovetare, 57 anni, per furto di energia elettrica. L'uomo avrebbe forzato con un giravite la cassetta dell'energia elettrica posta sulla pubblica via. Dopo aver tagliato i fili all'interno, avrebbe collegato un filo volante dalla cassetta all'interno della propria pitazione, asportando così in maniera illecita energia elettrica. Sequestrata una scala in legno lunga due metri e mezzo, due cacciavetti a taglio, nastro isolante nero, prolunga elettrica di 15 metri circa. L'arrestato permarrà presso la propria pitazione agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.